Crazy Mad andiamo subito con 100 euro Crazy Mad altri 240 euro Crazy! No way! Crazy Mad il famoso youtuber mi ha donato praticamente più di 3000 euro E mi ha fatto impazzire in live Andiamo a vedere tutto quello che è successo Anche la sua reazione con la sua schermata Quindi proprio la sua registrazione Diciamo che dovrei andare a comprare delle nuove cuffie Mi raccomando tu se sei curioso di vedere quello che è successo Ti invito ad iscriverti al canale Ti do due secondi di tempo per iscriverti 2, 1, tempo scaduto, ti sei iscritto E ti vado a mandare la richiesta di amicizia Se vai in questo fantastico shop di Fortnite Clicchi il tasto supporto a un creatore in basso a destra Ed inserisci l'unico, solo ed ilimitabile Codice creatore Joe-X97 Tutto maiuscolo Proprio come puoi vedere qui dietro di me ed ancora qui sotto di me E se usi il mio codice creatore Commenta spammando il tuo ID Epic Così ti posso mandare l'amicizia Tutto è cominciato quando ho avviato la mia live quotidiana Infatti sono in live tutti i giorni dalle 18 del pomeriggio Quindi attiva la campanella E se vieni in live potrai giocare con me Fare il provino per il mio team di Fortnite Avere la mia amicizia e molto altro Allora ragazzi server privati Passo, vedrete 1, 5, 4, 3, 2, 1 Buona partita a tutti E che bico è il mio ragazzi Insomma fatemi notare Eh ma non lo so Luigi Allora pure io dai E dove andiamo ragazzi? Andiamo tutti quanti in una città Ovviamente tutti quanti in una città La live stava procedendo super normalissima Ci stavamo divertendo con i nostri server privati e provini Ma ad un tratto Mentre so bello tranquillo che leggo la chat Vedo sullo schermo la notifica di Streamlabs E leggo un numero letteralmente folle Fuori di testa Sovrumano Allora Crazy Mad Donate di 118 No vabbè aspettate regà Aspettate Che cavolo è successo regà? Che cavolo è successo regà? Crazy Mad Giastip di 118 dollari? Ma che cavolo è? Ma stiamo scherzando regà? Ma stiamo scherzando? E Crazy Mad Quello Rio Non ci credo regà Non ci posso credere regà Aspetta 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 Cosa? Ma che sta scherzando? Non è lui Dimmi che non è lui Crazy Mad Di 118 dollari regà Ma cosa? Eh sì ragazzi Come vedete Sono impazzito Diciamo che Di cose Le ho rotte praticamente un bel po' eh Vi dico solamente Queste qui Mi costeranno 150 euro Eh vabbè Purtroppo So andate E anche questi auricolari Purtroppo è rimasto questo Dei miei auricolari Ma quando pensavo Che l'entusiasmo Fosse finito Succede qualcosa Di letteralmente Ancora più folle La cifra Che era stata donata prima Raddoppia E invece di essere 100 euro E qualcosa Diventano 200 dollari Ragazzi Raga salutate tutti quanti Crazy Mad Mi ha sparato la rossa Crazy Mad Altri 240 euro Crazy No way Non ci posso credere Ragà Non ci posso credere Ragà Non ci posso credere Crazy Mad Ragà Altri 200 Altri 200 Di Crazy Ragà Altri 200 Mamma mia Non ci credo Non ci credo Ragà Non ci credo Non ci credo Ragà Ho voglia di spendere Cavolo Crazy Mad 350 euro In totale Ragazzi Mamma mia Sì ragazzi Qui sono andato Totalmente fuori di testa Ma adesso vediamo La schermata di Crazy E il suo commento Con la sua reazione Quando ha fatto La donazione successiva Crazy Crazy Mad Andiamo qua Con Teli Meriti Teli Meriti Signore e signori Mettiamo qua E U E E E Eur Ok E mettiamo Altri 200 Che è 2.000 3 2 1 Dona Pall Let's go Andiamo a pagare Con Paypal Ancora sta continuando La bomba è partita Altri 200 partiti Altri 200 partiti E è arrivato in chat Guarda Streamlabs Just Chip 236 Poi di testa Regà E' veramente un matto Astag Crazy Mad Cosa Crazy No Ragazzi Non ci credo Ragà Ragazzi Distruggo Tutto Distruggo Tutto No No Non spaccare Tutto Non spaccare Tutto Non spaccare Tutto Effettivamente Poi Ho spaccato Tutto Crazy Mi dispiace Ero troppo Euforico A quel punto Quando pensavo Che fosse ormai Impossibile Spingersi Oltre Vedo in chat La cifra Che mi fa Andare fuori Di testa Di quale cifra Sto parlando Guarda Stanno facendo una battaglia Di donazioni Vince lo può battere Perché Crazy Ha donato solo 500 euro Crazy Mad Altri 600 euro Crazy Crazy Altri 600 euro Non ci posso Credere Altri 600 euro Mamma mia Crazy Mad Crazy Mad Altri 600 euro Non ci credo Non ci credo Ragà Pazzesco 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 Altri 600 euro Da parte Di Crazy Mad Ho donato 600 No Ragà Non ci posso Guardate Cosa è successo Ragà Guardate Cosa è successo Veramente Il devasto Più totale Ho distrutto La mia stanza Ragà Ho veramente Distrutto La stanza È successo Mamma mia Ragà Quanti Inasparati Raga 1100 euro Di donazione 1100 euro Di donazione Ragà Pazzesco No ragazzi No No Non ci credo Ragà E poi Crazy Mi scrive in chat In live Scrivendo Bro Te li meriti Col suo profilo Di youtube Verificato È successo Veramente Di tutto Altri 700 Crazy Che ti devo dire Crazy Io mi sto sentendo Male bro Te li meriti Tutti bro Grazie mille di cuore Per essere passato Crazy Non donare più Grandissimo 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 E questa è la storia Di come sono impazzito Con Crazy Mad In live Perché letteralmente Mi ha fatto distruggere Tutta la mia postazione Ovviamente la vittoria Royale è praticamente Obbligatoria ragazzi Quindi ci dobbiamo impegnare Vediamo di trovare armi 85 player E voglio fare 10 Anzi 15 kill Io ve lo dico ragazzi Quindi l'obiettivo è questo Ok Ci sono player Sono pure circondato Perfetto ragazzi Stiamo giocando a guardie ladri E io purtroppo Sono il ladro E le guardie Mi hanno preso 100% Finisce sempre così Intanto è scomparsa La banalita Signori ho preso le armi Sto arrivando a fightarvi E mi sa che avete Speranza zero Di salvarvi Sì 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 Perfetto Fucilozzo a pompa Ragazzi mi raccomando Lasciate mi piace Iscrivetevi al canale È importantissimo Chi lascia like E si iscrive È super fortunato Guardate un po' ragazzi L'ho praticamente killato Grazie al mio codice Ovviamente Fate le kill Perché chiuso il codice Gio trattino Alto x 97 Tutto maiuscolo Fa sempre tantissime kill È scontato E adesso direi proprio Di fare un po' di stile libero Di freestyle Qui per esempio Piazza Un pavimento Posso spiegare Sì però Vi spiegherò la prossima volta Tu mi raccomando Iscriviti Lascia like Commenta scrivendo il tuo ID Epic Perché se usi il mio codice creatore Ti mando la richiesta E mi raccomando Mai provare lo stile libero Mentre siete in partita Soprattutto se volete fare Victory Royale Ciao Ciao